Direttore di gara di Barcellona Pozzo di Cotto che adesso riautorizza e si può partire. Fiscalità subito ai massimi livelli. Un incontro quasi a Donadello quando invece avrebbe dovuto semplicemente allargarsi dietro e farsi vedere. Con la Cagliari, defilato verde che prova ad accentrarsi il tiro! Il gol da parte di verde che scavalca con questa traiettoria Manuel Gasparini proteso in tuffo. È giocatore con il più alto tasso di incisività nel Cagliari, questo per lui. È il quinto centro sugli otto complessivamente marcati. Forse anche una deviazione di Donadello a ingannare il tuffo. Cercando di utilizzare quella sua tecnica un po' sul lato ma attenzione. Qui sono trattenuta, è evidente, arriva il calcio di rigore con conseguente ammunizione per il difensore del Cagliari. L'episodio che doveva servire per portare a casa la partita, tra l'altro, è già ammunito per tutti. Quindi finisce anche il fischio di Pirrotta. Parte Milos Bocic che segna con il brivido ma segna anche il suo primo gol stagionale. Si sblocca Milos con un rigore calciato davvero angolatissimo. Daga riesce a capire che la traiettoria è quella.